Buonasera a tutte le amiche e tutti gli amici che in questo momento si sono eh sintonizzati su sette gol con Casalotto. Oggi è lunedì ma è serata di estrazione perché sabato scorso era Santo Stefano quindi festa e allora tra tra poco tra pochi minuti andremo a recuperare quella che è la dodicesima estrazione di questo mese di dicembre. Un mese che con questa settimana eh giungerà al termine quindi questa è la terz'ultima estrazione ci sarà poi domani e giovedì appunto anche il il trentuno che sarà l'ultima quindi un in bocca al lupo fin da subito ovviamente da parte mia scontrini alla mano cedoline alla mano e un saluto va un bacione a Lio che questa sera dall'altra parte invece a Marco un ben ritrovato dopo la diretta che abbiamo trascorso fatto insieme oggi pomeriggio. Ciao 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 a te. In bocca al lupo. Allora io ti lascio. Ci siamo? Sì. Allora intanto voi mandate mi raccomandina va bene ci vediamo tra poco vado ciao. Ho qualche problema con la spallina destra questa sera. Allora vai 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 qualche secondo ti seguo ti seguo ti seguo. Sta arrivando Marco pronto mamma mia velocissimo. Sì il tablet però è spento. No è acceso adesso lo ho. Non è aperto non so. Aspettavo che rientravi. Ok. Adesso controllo. Anche perché sono 20 e 23 Marco siamo in diretta. Rieccoci guarda intanto un grazie. Bene allora cambiamo grafica. 20 e 29 ancora in diretta. Noi però ora ci fermiamo per pochissimi. 20 e 32 ritorniamo in diretta con voi dentro le vostre case. Non abbiamo ancora terminato la dodicesima estrazione. Attendiamo le prossime quattro ruote. Siamo in attesa. Non so quale sarà. Fede schiaccia giorno. La prima ruota. Noi intanto con Marco insomma. Possiamo commentare ancora i risultati di intanto di questa sera. Mi sa che ci hanno sentito da.